Violenta rissa tra quattro uomini, probabilmente secondo i testimoni con un marcato accento albanese, tutti di giovane età sulla corsa Spidi del percorso Urbino-Pesaro. Ieri sera, attorno alle 19, per ragioni sconosciute hanno incominciato a malmenarsi tra loro, innescando una furibonda zuffa, nella quale sono stati coinvolti anche due passeggeri che erano intervenuti nell'intento di separarli e calmare la rissa scoppiata nella parte posteriore del mezzo. Ne è scaturito un fuggifuggi generale tra i passeggeri che, impauriti per quanto stava accadendo, e non sapendo che piega poteva prendere la corsa, si sono ammassati nella parte anteriore del mezzo, gridando all'autista di fermarsi. Ma per ragioni di sicurezza dei passeggeri l'autista ha fermato il bus a Capone, dove una volta aperte le porte i quattro si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Una volta lanciato l'allarme al 112 l'autista si è fermato a Bottega, dove i carabinieri della stazione locale, coadiuvati dai militari della squadra di intervento operativo del 14esimo reggimento Calabria, dei quattro però nessuna traccia. Dal bus durante il parapiglia sono sparite anche due borse da donna di tipo zainetto. Sull'accaduto ora indagano i militari della stazione di Montecchio di Vallefoglia che hanno esaminato anche le telecamere interne al bus per cercare di identificare i responsabili della rissa e anche del furto delle due borse. A causa di tutto questo è saltata anche la tabella di marcia del mezzo pubblico, accumulando così diverse ore di ritardo.